2 luglio 2022, primo giorno di saldi estivi ed è già corsa lo shopping anche in centro a Bassano. Ha approfittato dei saldi? Sì. Primo giorno ci voleva? Sì esatto. Li aspettava? Sì, un po', sì sì sì. Ho approfittato sì perché ho comprato bene in questo negozio e mi trovo bene. Senta, di solito si dà un budget lei per quando c'è periodo di saldi? No. Cosa ha preso signora? Siamo curiosi. I pantaloncini corti. Sì, comunque belli dai, bisogna approfittare no? A parte che abbiamo approfittato poco per ora. È appena iniziata quindi? Appena iniziata, certo. Ho comprato un abbigliamento, un abbigliamento che rimane per sempre, ho comprato delle scarpe e ho comprato delle borse e diciamo che con oggi concludo i miei saldi. Iniziano e finiscono oggi. Direi proprio di sì perché altrimenti la carta piange. Se è scontato ci fai un pensierino e te lo compri. Se devi pagare 400 euro di scarpe o 500 e subito ci pensi no. Invece se ti fanno un sconto lo compri, sì. Primo giorno ho approfittato. Le chiedo cosa ha comprato? Dei pantaloni e delle camicie. Si dà un budget lei di solito ogni anno? Di solito sì. Ah? Sì. Può sapere quanto? Ma sì, 250-300 euro. Lei invece cosa ha comprato, approfittando dei saldi? Eh guardi, ho comprato due magliettine, però adesso va bene. È solo l'inizio questo? Speriamo che sia solo l'inizio. Senta, hai atteso di solito questo periodo di saldi? Vabbè certamente. Ormai con la crisi che c'è in giro bisogna aspettare un po' questi periodi per comprare. Ha approfittato della prima giornata di saldi? Ah no, veramente? Non sapevo. Adesso vado subito a approfittandene.